Compagno, con amando questo amico, questa parola è il nome assai fotato. Hai un certo cos'orgente, ma che dico, e la famiglia mi ha raccomandato. Vi aspetto un tardio posto in Las Promonti, sopra l'usigno, a reta la sorgente. Ho portato un libro con tutti i punti, vi bacio e vi ringrazio eternamente. E dopo non poteva dubbare, ecco ma giù da Cristo si vinti io, con pugni soldi di quattro divani. Tradimento, con quali pori tu arrivassi a tanto, per vista dignità e un sentimento, ma presto riesci ora a verità. Ormai li ho ornatò i sogni puntati, rittia non ci è arrivato a nulla via. Fai parte a chi ti chissù condannati, non fai più ombra a nulla e manco a mia. E non pensasti manco di chi soi, non hanno pagi senza il più ricetto. E tu fa un paurico, non è un paurico, ma giù di chi soi, non è un paurico, ma presto. Tradimento, con quali pori tu, non è un paurico, non è un paurico, non è un paurico, non è un paurico, ma presto. I traditori vengono condannati Dio e l'uomani, vista legge da natura. La legge giusta e precisa, i traditori campano sempre con l'ombra. E avandetta prima o poi li trovan da ogni posto e quando meno se lo aspettano. E avandetta prima o poi li trovan da ogni posto e quando meno se lo aspettano. Grazie a tutti.